Numero 5. Questa lavasciuga Slim Hoover è la soluzione ideale per le famiglie che cercano un elettrodomestico di qualità che occupi poco spazio. Con una capacità di 6 kg per il lavaggio e l'asciugatura, questo prodotto offre prestazioni elevate a fronte di un consumo ridotto di acqua e energia. I 13 programmi disponibili, tra cui l'innovativo Refresh al vapore, consentono di trattare una vasta gamma di tessuti con la massima cura e igiene. Nonostante la mancanza di programmi specifici per capi tecnici o biancheria, la lavasciuga si distingue per il suo design compatto e la facilità d'uso. Acquista questo prodotto con il link che trovi in descrizione. Numero 4. Questa di Candy è una lavasciuga Slim che si distingue per il suo design compatto e ingombro ridotto, ideale per chi ha spazio limitato in casa. Con una capacità di carico di 6 kg per il lavaggio e 4 kg per l'asciugatura, è in grado di soddisfare le esigenze di una famiglia media. Tra i suoi punti di forza, il prodotto offre programmi a vapore stirofacile e la possibilità di scaricare cicli aggiuntivi per adattarsi alle diverse necessità di lavaggio. Inoltre, è molto facile da utilizzare grazie alla sua interfaccia intuitiva e alle opzioni di lavaggio e asciugatura personalizzabili. Trovi il link con il prezzo di questo prodotto in basso nella descrizione del video. Numero 3. La lavasciuga Slim Air è un prodotto molto versatile e performante, ideale per chi desidera ottimizzare lo spazio a disposizione in casa senza rinunciare ad un'elevata capacità di carico. Con una capacità di 8 kg per il lavaggio e di 5 kg per l'asciugatura, è dotata di 13 programmi, tra cui spiccano quelli a vapore ideali per un lavaggio più delicato e rimuovere al meglio le macchie. Una delle sue principali qualità è il sistema di scarico diretto che elimina la necessità di svuotare una vaschetta, rendendo l'utilizzo ancora più semplice e pratico. In basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto. Numero 2. Questa lavasciuga Slim LG è la soluzione perfetta per chi ha poco spazio ma vuole comunque avere un elettrodomestico completo ed efficiente. Con una capacità di carico di 8,5 kg e una capacità di asciugatura di 5 kg offre una vasta gamma di programmi, tra cui il riconoscimento automatico dei tessuti e la possibilità di scaricare programmi extra tramite l'app. Inoltre, la sua scheda tecnica sorprende per la sua efficienza energetica e dei consumi, ottimi voti anche per i programmi e le funzioni. Facile da usare e con un controllo remoto via app, questa lavasciuga è l'alleato perfetto per una casa moderna e tecnologica. Trovi il link di questo prodotto in basso nella descrizione. Numero 1. Questa di Samsung è una lavasciuga dal design elegante e compatto, ideale per chi ha spazio limitato in casa. Con una capacità di carico di 8 kg per il lavaggio e 5 kg per l'asciugatura, offre una vasta gamma di programmi per garantire il massimo delle prestazioni. Tra i punti forti di questo prodotto, c'è sicuramente l'Oblò Head Wash, che permette di aggiungere capi durante il ciclo di lavaggio, e la funzione di igienizzazione a vapore che garantisce un'efficace rimozione dei batteri. Inoltre, grazie alla tecnologia NFC, è possibile diagnosticare eventuali problemi e ricevere aggiornamenti per il corretto utilizzo della lavasciuga. Se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto, clicca il link in descrizione. Grazie. 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 Grazie.